Elezioni per i rappresentanti alla Camera dei Deputati, questi i candidati del collegio uninominale Liguria 6 La Spezia. Gagliardi Manuela per il centrodestra, Caleo Massimo per il centrosinistra, Liguari Luigi per Libere Uguali, Sommo Vigo Lucia per il Movimento 5 Stelle, Bucchioni Edmondo per Potere al Popolo, Saturno Pietro, Casa Pound Italia, Raso Cristina, 10 volte meglio, Maria Patrizia Selvaggi, il Popolo della Famiglia, Lorenzo Mazzi, Partito Comunista, Massimiliano Notarangelo Nohan, Partito Repubblicano Italiano Ala, Matteo Petta, Partito Valoreumano, Paolo Agostini per una sinistra rivoluzionaria. Questi invece sono i candidati nel collegio uninominale al Senato Liguria 3, Genova La Spezia, Pucciarelli Stefania, centrodestra Lega, Michelucci Iuri, centrosinistra PD, Canale Laura, Libere Uguali, Steardo Fulvia, Movimento 5 Stelle, Castellani Catia, Potere al Popolo, Baracco Maria Grazia, Casa Pound Italia, Canossa Emilia Cristina, il Popolo della Famiglia, Pareschi Sergio, Partito Comunista, Grazzini, Livio Orlando, Partito Repubblicano Italiano, Ala, Fadda Matteo, Partito Valoreumano, Carannante Andrea per una sinistra rivoluzionaria.